Dishonored? Cosa ne penso? Beh, è uno dei più discreti, il primo perlomeno, videogiochi che ho giocato nella settima generazione. Era stato presentato come il futuro di Half-Life, fondamentalmente. Half-Life 3 doveva essere, in pratica, un capolavoro incredibile, non lo è stato, ma è uno dei videogiochi più solidi di settima generazione e sono assolutamente convinto e seriamente preso dall'idea che debba essere premiato fino in fondo per quello che ha fatto. Attento!